Ehi, i pokémons! La Vandogna è Jumpscare 9 su 10, l'identità del fantasma, oh cristo dio! Perché io mesi dopo che Riccardo Milos ha smesso di essere un meme rilevante mi ritrovo Riccardo Milos in faccia? Cioè lo apprezzo come meme, mi fa ridere, però cazzo è morto, lasciatelo lì! Però vabbè, apprezziamo! Perché sta mettendo del sapone in faccia? Ma che... What? No! Ahahahah! Ahahahah! Tutto quello che sappiamo è una bugia! Ahahahah! Sto male! Che cosa trash! Ahahahah! Perché c'è la scena di Interstellar, mio santo! E perché sta musica sotto, tristissima! Vabbè, niente, abbiamo scoperto oggi che i porno sono delle palle! Benvenuti nel 2010, penso! Cos'è sta roba? Perché c'è un tizio gigante tatuato? Ah! Fuck! Ahahahah! Oh mio Dio! Ogni tanto TikTok regala ancora qualche emozione! Ogni tanto TikTok tira fuori delle cose belle, cazzo! Volete vedere un altro video su TikTok mesi, mesi e mesi dopo? Arriviamo a 15.000 like e lo faccio, ve lo giuro! Però cazzo! Che trashata! Cosa? Ai mio amor! Quindi un po' coloco! Un po' che... Povero gatto con la croc in test! Questa è la faccia del please stop! Help me! Beh, anche a me piace tanto andare in giro con delle croc e schiantarle in faccia alla gente! Ah dai, non è legale, dite! Ah, ecco perché tutte quelle multe, denunce! Ma che storia! Perché Ramstein? Cosa? Ma che cazzo è sta roba? No! Oh mio Dio! È terribile! Ma perché sta musichina? Eh, guarda com'è felice! Poveri Ramstein! Non se lo meritano! Loro non se lo meritano! Sarebbe bello però se un gruppo metal, di quelli pesanti come Ramstein, belli tosti, facessero un concerto tutto così! Però mentre s'atteggiano comunque come al solito! Sarebbe molto bello! Perché ci sono dei nani con un barretto? Perché? Cioè, qual era il senso? Oh raga, facciamo qualcosa di molto stupido e doloroso per farci un video su YouTube? Sì, ci sto cazzo, subito! È un po' così il ragionamento che facciamo noi youtuber e tiktoker, influencer del cazzo. È un po' una cosa stupida. Ta 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 ta! Wow! New Super Mario Brothers! Whee! Cosa sta succedendo raga? Perché c'è Mario così? Nooo! Ah! Ah! Non finisce più! Non finisce più! Oh God! Oh Gesù Cristo! Ok! Ho finito! Ho finito! Non voglio più vederlo! Voglio andare a casa adesso! Non voglio più fare i video! Perché? Oh mio Dio! Quanto li tira bene i sassi! Lui è un vero pillar man cazzo! Oh mio Dio Oh god Ma dai Il twist finale era 100 milioni di punti Perfetto cazzo Oh no Questi video qua Oh quanti cazzo sono Oh god Oddio sempre di più Devo essere onesto Sta musica mi mette ansia Non so perché ma mi mette inquietudine dentro Oh mio Dio su cosa ho fermato l'immagine Lasciamo stare Andrebbe avanti ma no per oggi no Perché belli gatti ma gli incubi la notte dopo Un altro Cosa La palla è andata via Oddio Ah si dai andiamo al campetto Tanto stasera non c'è nessuno È notte phone Ma si dai Tonk tonk C'è qualcuno nel bosco? No Ok Gli incubi la notte Sempre Cosa sto vedendo E quando la musica è dentro il tuo corpo Non puoi far altro che liberarla Sono cringe ogni tanto Minchia perfetto Oddio Drille Oh povero cane Dancing dog Minchia l'ultimo era proprio dancing dog Era super felice Cosa sto vedendo Oh si caro Boom Be gone Oddio Madonna santa che male Che male ed è ancora vivo Per qualche motivo Come? Come fa ad essere vivo in questo momento Quell'uomo? Come? Adesso me lo devo spiegare Cazzo Che male Oh no Questo l'ho visto Game Povero polletto Oh un altro Scusate non ho guardato un singolo gatto Ho solo cantato come un ritardato Sto diventando un po' scemo Snake 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 Beh era effettivamente Snake Nel vero senso della parola Oh no Is it ok to say the N word? No si Ok dilla I'm gonna say the N word Pericoloso questo devo dire Però lei era bella convinta Guardate la faccia della convinzione Mentre lo dice Contenti per lei tutti siamo Sono diventato Yoda Cosa stanno facendo Mio Dio Perché? Ma che cazzo è sto video? Ma cosa salvo io? Oh si C'è che i gatti quando sbadigliano fanno delle facce serrificanti Questo è proprio perfetto con i rumori degli zombie di Kod Cioè BAM 600 IQ cazzo I throw dice And if anything comes between one to five I'll kiss you Ok And what if six counts? E cosa succede se c'è sei? BOMF Il doji banana mi mancava comunque Cioè Bello Mi piace moltissimo Molto Cazzo Voglio anch'io il doji banana BOMF 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 Sto male Sto malissimo Gotta go fast Perché il trailer di Sonic BLEH 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 E ragazzi con questo penso di poter chiudere Perché ho visto tutto Quindi mi raccomando Se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace Un commento Iscrivetevi Passate da Twitch Instagram Il subreddit di Bertra Per il video di oggi è tutto Un saluto da Bertra Noi ci vediamo al prossimo video Bella lì Noi ci vediamo al prossimo video